Jane Eyre, capitolo quindicesimo. Il signor Rochester ebbe occasione in seguito di spiegarlo. Un pomeriggio incontrò per caso me e Adele, e mentre Adele giocava con Pilot e il suo volano, mi chiese di camminare su e giù per il viale dei faggi senza perderla di vista. Mi disse allora che Adele era figlia di una ballerina dell'Opera, Céline Varen, per la quale aveva una volta sentito quella che chiamava una «grand passion». Céline pareva a ricambiargli il suo amore con un ardore anche maggiore. Nonostante la sua bruttezza, egli si credeva il suo idolo. Credeva, come diceva, che essa preferisse la sua «tai d'athlete» all'eleganza dell'Apollo del Belvedere. E, signorina Eyre, fui tanto lusingato da questa preferenza della silfide gallica per l'ognomo britannico che l'insediai in un albergo e la contornai di servitù, carrozza, tappeti, diamanti, trine, ecc. In breve cominciai a rovinarmi nel solito modo di un qualsiasi altro spasimante. Non ebbi l'originalità di battere una strada nuova per arrivare alla vergogna e alla rovina, ma ricalcai senza sgarrare di un centimetro il solito vecchio cammino. Mi attendeva, come meritavo, il destino di tutti gli altri spasimanti. Andai da Selino una sera che non mi aspettava e trovai che era fuori di casa. Era una sera calda ed ero stanco di camminare per Parigi e così mi accomodai nel suo salottino, felice di respirare l'aria consacrata poco prima dalla sua presenza. No, esagero. Non ho mai creduto che le aleggiasse intorno la virtù. Era più un profumo, un sentore di muschio e ambra che essa aveva lasciato che un odore di santità. Stavo giusto soffocando per l'emanazione di quell'essenza, allorché decisi di aprire la finestra e di camminare sul balcone. Questo era illuminato dal chiaro di luna e dalla luce a gas e fornito di qualche sedia. Sedetti e presi un sigaro e, mi scusi, se ne prenderò uno anche adesso. Qui seguì una pausa, durante la quale prese il sigaro e l'accese. Dopo averlo posto fra le labbra e tirato una boccata di fumo, continuò. Mi piacevano anche i confetti a quei tempi, signorina Heir, e stavo croccant, osservi il barbarismo, croccant dei cioccolatini e fumando alternativamente e osservando gli equipaggi che passavano per la strada affollata dirigendosi al vicino teatro dell'opera, allorché, in una elegante carrozza tirata da un paio di bei cavalli inglesi, riconobbi la voiture che avevo donato a Céline. Essa ritornava. Naturalmente il mio cuore batte d'impazienza contro le sbarre di ferro a cui mi appoggiavo. La carrozza si fermò, naturalmente, alla porta dell'albergo. La mia fiamma, così si chiama un'innamorata dell'opera, balzò a terra, benché avvolta in un mantello, rivestimento inutile, a proposito, in una così calda serata di giugno, la riconobbi immediatamente dal piedino che spuntò di sotto la gonna, mentre scendeva il predellino della carrozza. Mi sporsi dal balcone. Stavo per pronunciare mon ange, in quel tono naturalmente che è solo percettibile all'orecchio dell'amore, quando dietro di lei discese dalla vettura un'altra persona. Era anche questa volta da un mantello, ma con speroni, che risuonarono a terra e con cappello, e subito entrò sotto l'arco della porte cochere dell'albergo. Non ha mai sentito la gelosia, signorina Heir? Certo no. Non ho bisogno di chiederglielo, perché non ha mai provato l'amore. Deve ancora provare sia l'uno che l'altra. La sua anima dorme. Deve ancora arrivare il colpo che la sveglierà. Lei crede che tutta l'esistenza si svolgerà nella calma in cui è fluita la sua gioventù fino ad ora, navigando con gli occhi chiusi e le orecchie ovattate. Non vede le rocce irte appena fuori del letto della corrente, né o dei marosi ribollire ai loro piedi. Ma ricordi le mie parole. Verrà un giorno in cui si troverà un passo difficile, in cui tutta la corrente della vita si convertirà in turbini e tumulto, in schiuma e strepito, e lei sarà sbattuta contro le rocce o sollevata e trasportata da una qualche onda in una corrente più calma, come io ora. Amo questo giorno. Amo questo cielo d'acciaio. Amo la tranquillità della terra indurita dal gelo. Amo Thornfield, la sua antichità, il suo isolamento, i suoi vecchi alberi pieni di corvi e di spine, la sua facciata grigia e le file di finestre che riflettono la volta metallica del cielo. Eppure, per quanto tempo ho abborrito perfino il pensiero di esso, e l'ho fuggito come si sfugge una grande casa pestifera, come la borro ancora. Strinse i denti e rimase in silenzio, si fermò e sferrò col piede un colpo contro il terreno. Pareva che fossero sorti in lui dei pensieri odiosi, che lo tenessero tanto avvinghiato da impedirgli di procedere. Si stava in quel momento salendo il viale. Ci trovamo di fronte al palazzo. Alzati gli occhi all'edificio, lanciò ad esso uno sguardo quale non ho mai visto né prima né dopo di allora. Sembrava che, in quel momento, dolore e vergogna, ira, impazienza, disgusto, orrore, venissero a conflitto nella grande pupilla che si dilatava sotto le ciglia scure come l'ebano. Era una lotta selvaggia, ma un nuovo sentimento sorse e trionfò, aspro e risoluto, che sedò la passione e pietrificò i suoi lineamenti. Egli proseguì. Mentre sono rimasto in silenzio, signorina Heir, ho sistemato una cosa importante col mio destino. Stava lì, vicino al tronco di quel faggio, come una delle streghe che apparvero a Macbeth nella landa di Forest. «Ami Tornfield?» mi disse sollevando il dito e poi scrisse nell'aria una frase a caratteri lividi lungo la facciata della casa, in mezzo alle file delle finestre. «Amalo, se puoi. Amalo, se osi». «Io l'amerò», dissi. «Oserò amarlo». E egli aggiunse irosamente. «Manterrò la mia parola, supererò gli ostacoli per raggiungere la felicità e la bontà. Sì, la bontà. Desidero diventare un uomo migliore di quel che sono stato e che sono». Come il leviatano di Giobbe ruppe la lancia, il dardo e la corazza, gli impedimenti che altri considerano ferro e bronzo, per me saranno paglie e legno fradicio. Adel corse da lui col suo volano. «Via», disse brusco. «Sta lontano, bambina, o vada Sophie». Avendo egli ricominciato a camminare in silenzio, mi arrischiai a riportarlo al punto dove aveva improvvisamente interrotto il suo racconto. «Ha lasciato il balcone, signore?», chiesi. «Quando entrò la signorina Barin?». Mi aspettavo quasi un rabuffo per questa domanda importuna, ma invece, uscendo dal suo isolamento, volse gli occhi verso di me e parve rasserenarsi. «Oh, avevo dimenticato Selin. Ebbene, per riassumere, quando vidi la mia incantatrice accompagnata da un cavaliere, mi parve di udire un sibilo e il verde serpente della gelosia rizzarsi sulle spire e penetrarmi nel petto e divorarmi il cuore in un momento. «Strano!», egli esclamò, scostandosi di nuovo dal soggetto. «Strano che abbia scelto lei come confidente di questa storia. Ancora più strano che lei mi ascolti pazientemente, come se fosse la cosa più naturale del mondo, che un uomo come me racconti a una fanciulla bizzarra e senza esperienza come lei le sue avventure con una ballerina dell'opera, ma un'originalità spiega l'altra. E infatti una volta le dissi che la sua serietà, circospezione e prudenza erano fatte per ricevere dei segreti. Inoltre, so l'anima con la quale ho messo in comunicazione la mia. So che non è soggetta a contagiarsi. È singolare, unica. Fortunatamente non intendo farle del male, ma anche se avessi l'intenzione non ne sarebbe danneggiata. Più conversiamo insieme meglio è, perché io non posso contaminarla. Lei può sollevare me. Dopo questa digressione continuò. Rimasi sul balcone. Verranno certamente nel suo salottino, pensai, e io preparerò un'imboscata. Così, allungata la mano attraverso la finestra aperta, tirai la tenda lasciando solo un'apertura attraverso la quale potevo vedere. Poi chiusi la finestra, eccetto una fessura abbastanza larga, dove potessero passare le parolette di un innamorato. Ritornai alla mia sedia e, come avevo previsto, la coppia entrò. Misi subito l'occhio all'apertura. Entrò la cameriera di Céline, accese la lampada, la depose sul tavolino e si ritirò. Potei in tal modo vedere benissimo i due. Si tolsero il mantello e apparve la varin in tutto il suo splendore di rasi e di gioielli, doni miei naturalmente, e il suo compagno vestito da ufficiale. Lo riconobbi. Era un giovane visconte, libertino e scapestrato, che avevo qualche volta incontrato in società e che disprezzavo talmente che non sentii per lui neppure odio. Non appena lo vidi, non sentii più il morso della gelosia, perché nel medesimo istante il mio amore per Céline cessò. Una donna che era capace di tradirmi con un tal uomo non era degna di essere amata. Meritava soltanto disprezzo, meno comunque di me, che ero stato menato da lei per il naso. Cominciarono a chiacchierare. La loro conversazione mi confortò completamente, frivola, interessata, priva di sentimento e di intelligenza. E fatta più per calmare che per eccitare l'ira di un ascoltatore. C'era sul tavolo un mio biglietto da visita. Fu notato e la conversazione cadde su di me. Nessuno dei due possedeva tanto spirito e tanta energia da bastonarmi di santa ragione, ma mi insultarono grossolanamente come permettevano i loro poveri mezzi. Soprattutto Céline, che mi attaccò abbastanza vivacemente sui miei difetti personali. Deformità, come essa li definiva. Ora era sua abitudine di manifestare un'ammirazione fervente per quella che essa chiamava la mia botte mal, proprio all'opposto di lei che, al secondo incontro, mi disse esplicitamente che non mi credeva bello. Il contrasto mi colpì subito e arrivò di nuovo ad El di Corsa. «Monsieur, Giovanni è venuto a dire che è arrivato il suo amministratore e che desidera vederla». «Ah, in questo caso devo tagliar corto». Aprì la finestra ed entrai in mezzo a loro. Restituì a Céline la sua libertà e le informai di lasciare l'albergo. Le offrì del denaro per i suoi bisogni immediati, incurante delle sue grida, dei suoi isterismi, delle sue preghiere, delle sue proteste. Liedi al visconte un appuntamento al Bois de Boulogne e la mattina seguente ebbi il piacere di incontrarlo e di lasciargli una palla nelle sue misere braccia. Ma, sfortunatamente, la Varin sei mesi prima aveva dato alla luce a El che, essa affermava, era mia figlia. E può anche darsi, benché non riscontri nei suoi lineamenti, nessuna prova di tale triste paternità. Pilot mi assomiglia più di lei. Alcuni anni dopo che ebbi rotto i rapporti con sua madre, questa abbandonò la bambina per fuggire in Italia con un musicista o un cantante. Non riconoscevo che Adele avesse qualche diritto di essere mantenuta da me, e neppure ora lo riconosco, poiché non sono suo padre, ma, sentendo che era abbandonata, tolsi quella povera creatura dal fango di Parigi e la trapiantai qui, per farla crescere sul sano suolo della campagna inglese. La signora Fairfax trovò lei per educarla, ma ora che sa che la figlia illegittima di una ballerina francese forse cambierà idea sulla sua situazione e sulla sua protetta. Verrà un giorno l'altro da me con la notizia che ha trovato un altro posto, pregandomi di cercare una nuova governante, eccetera, eh? No, Adele non è responsabile delle colpe della madre, né delle sue. Sento dell'affetto per lei, e adesso che so che in un certo senso, senza genitori, abbandonata dalla madre e rinnegata da lei, mi attaccherò alla bambina più di prima. Come potrei preferire il rampollo viziato di una famiglia ricca che mi detesterebbe e mi considererebbe un fastidio a un'orfanella che mi giudica un'amica. Ah, la pensa così? Bene, ora devo andare. E vada anche lei, si fa buio. Ma io rimasi ancora pochi minuti fuori con Adele e con Pilot a correre con lei e a giocare al volano. Quando rientrammo, le tolsi il mantello e il cappello e la tenni per un'ora sulle ginocchia e le permisi di chiacchierare a suo piacere senza rimproverarla per certe piccole grossolanità a cui si abbandonava quando era vezzeggiata che tradivano un carattere superficiale ereditato probabilmente da sua madre che strideva con lo spirito inglese. Ciononostante, essa aveva le sue buone qualità e io ero disposta ad apprezzare tutto quello che di buono c'era in lei. Cercai nella sua espressione e nei suoi lineamenti una somiglianza col signor Rochester, ma non la trovai. Non c'era in lei nessun tratto o espressione che denotasse una somiglianza. Peccato, perché se si fosse potuto provare che gli somigliava in qualcosa, egli avrebbe pensato di più a lei. Solo dopo essermi ritirata in camera mia, ripensai fra me al racconto che il signor Rochester mi aveva fatto. Come mi aveva detto, non c'era nulla di straordinario in tutta quella storia. La passione di un inglese ricco per una ballerina francese e il tradimento di questa erano senza dubbio, in società, avvenimenti di tutti i giorni. Ma vi era qualcosa di veramente strano nella grande emozione da cui era stato preso improvvisamente nell'esprimere la soddisfazione e il piacere di vivere di nuovo nel vecchio palazzo e nelle sue terre. Non riuscendo a spiegarmelo, cominciai a considerare la condotta del padrone a mio riguardo. La fiducia che aveva creduto bene di riporre in me era un omaggio alla mia discrezione. La consideravo e accettavo come tale. Da qualche settimana in qua il suo umore a mio riguardo era più uguale, era meno distante, non aveva accessi di agghiacciante altezzosità. Quando mi incontrava, inaspettatamente, pareva che ne avesse piacere e aveva sempre per me un sorriso o una parola. Quando con un invito formale mi chiamava alla sua presenza, mi accoglieva con una cordialità da farmi capire che veramente possedevo il dono di divertirlo e che queste conversazioni serali costituivano per lui un piacere come per me un profitto. Io veramente parlavo relativamente poco, ma stavo ad ascoltarlo con delizia. Aveva un temperamento comunicativo, prendeva gusto ad aprire ad una mente ignara del mondo scene e costumi di esso. Da parte mia provavo un vivo godimento ad accogliere le idee nuove che mi comunicava, nel figurarmi i quadri nuovi che descriveva e nel seguirlo con la fantasia nelle regioni nuove che mi apriva, senza mai turbarmi con alcuna allusione dannosa. La sua disinvoltura mi liberava da ogni penosa soggezione. La franchezza amichevole, corretta quanto cordiale, con la quale mi trattava, mi attiravano a lui. Sentivo in certi momenti come se fosse più un parente che un padrone, benché a volte fosse ancora autoritario. Ma non ci davo peso perché sapevo che era il suo modo di fare. L'interesse nuovo che si aggiunse alla mia vita mi rese tanto contenta che cessai di sospirare una famiglia. Il mio destino pareva allargarsi. I vuoti della mia esistenza colmarsi. La mia salute fisica migliorare. Ingrassai e irrobustii. E il signor Rochester era sempre brutto ai miei occhi? No. La gratitudine, unita ad altri delicati sentimenti, rendeva al suo viso l'oggetto che più amavo vedere. La sua presenza in una stanza illuminava più del fuoco più risplendente. Pure non avevo dimenticato i suoi difetti e non avrei potuto perché li mostrava spesso. Era orgoglioso, sarcastico e duro oltre ogni descrizione. Intimamente capivo che la sua grande gentilezza verso di me era controbilanciata da una ingiusta severità verso molti altri. Era anche di umore mutevole e inesplicabile. Più di una volta che mi aveva mandato a chiamare per fargli la lettura, lo avevo trovato seduto tutto solo in biblioteca, con la testa appoggiata sulle braccia incrociate e, sollevato il viso, gli avevo scorto un cipiglio triste, quasi ispido. Ma io attribuivo il suo mutare di umore, la sua durezza e le sue passate colpe – dico passate perché sembrava che ora se ne fosse corretto – a qualche crudele colpo del destino. Secondo me era un uomo di inclinazioni migliori, di principi più nobili, di gusti più elevati di quel che le circostanze, l'educazione e la sorte avevano formato. Pensavo che ci fosse in lui dell'ottima stoffa, benché per il momento fosse lì inutilizzata. Devo confessare che mi addoloravo del suo dolore, qualunque fosse, e che avrei voluto attenuarlo. Spenta ormai la candela e coricatami, non potei dormire, ripensandolo quando si era fermato sul viale, e aveva detto come il destino gli era assorto di fronte e l'aveva sfidato a essere felice a Tornfield. Perché no? mi chiesi. Che cosa lo allontana da questa casa? La lascerà di nuovo presto? La signora Fairfax diceva che raramente vi rimaneva per più di quindici giorni di seguito, e ora vi stava da otto settimane. Se fosse partito, il cambiamento sarebbe stato doloroso per me, e se fosse rimasto assente durante la primavera, l'estate e l'autunno, avrebbe tolto la gioia al sole e alle belle giornate. Non so se dormii o no dopo questa riflessione. Comunque fosse, mi svegliai di soprassalto nell'udire un mormorio incerto e lugubre che pareva venire proprio dalla camera sopra la mia. Rimpiansi di aver spento la candela. Era buio fitto, mi sentii in un incubo. Mi alzai a sedere sul letto, in ascolto. Il rumore cessò. Cercai di addormentarmi di nuovo, ma il cuore batteva d'angoscia, e non potei ritrovare la calma. Dal vestibolo il pendolo suonò le due. In quel momento eppi l'impressione che qualcuno toccasse la porta della mia camera, come se delle dita l'avessero sfiorata, cercandosi la strada attraverso l'oscurità della galleria fuori. Dissi, chi è? Nessuno rispose. Aghiacciai di terrore. Ad un tratto pensai che potesse essere Pilot, che quando per caso trovava aperta la porta della cucina, spesso andava a sdraiarsi sulla soglia della camera del signor Rochester. Certe mattine lo avevo visto accucciato là. Questo pensiero mi calmò un poco. Mi allungai, e il silenzio distese i miei nervi. E siccome non si udiva più il minimo rumore nella casa, cominciai a sentirmi tornare il sonno. Ma era destino che quella notte non dormissi. Avevo appena cominciato un sogno, che fu messo in fuga da un rumore che mi gelò fino alle ossa. Era un riso demoniaco, sommesso e profondo, che pareva venire dal buco della seratura della mia camera. La testa del mio letto era vicina alla porta, e credetti dapprima che quel riso da demonio stesse al mio fianco, o meglio, uscisse dal mio guanciale. Mi sollevai, mi guardai intorno e non vidi nulla. Ma mentre stavo ancora in osservazione, la risata si ripetè, e compresi allora che proveniva da dietro la porta. Il mio primo impulso fu di alzarmi e di spingere la maniglia. Ma invece gridai di nuovo. Chi è? Si sentì un gorgoglio e un lamento. Un momento dopo si udirono dei passi per la galleria, diretti verso la scala che conduceva al terzo piano. Udì aprire e chiudere la porta, che recentemente era stata messa in fondo alle scale. Poi tutto fu silenzio. E Grace Poole? È invasa dal demonio? Pensai. Mi era impossibile ormai restare ancora in camera mia? Dovevo andare dalla signora Fairfax. Infilai rapidamente il vestito e mi copersi con uno scialle. Apri la porta con mano tremante. Là fuori, sulla stuoia della galleria, c'era una candela che ardeva. Fui sorpresa da questa circostanza, ma ancora più stupita di notare che l'aria era opaca e piena di fumo. Mentre guardavo qua e là per vedere di dove provenisse quella nuvola bluastra, cominciai a sentire un forte odore di bruciato. Qualcosa scricchiolò. Era una porta socchiusa, quella del signor Rochester, da dove il fumo usciva a fiotti. Non pensai più alla signora Fairfax e neppure a Grace spull e alla risata. In un lampo fui nella camera. Lingue di fuoco circondavano il letto e le tende erano in fiamme. E in mezzo alle vampe il signor Rochester stava immobile, profondamente addormentato. «Si svegli! Si svegli!» gridai. Lo scossi, ma egli brontolò solo qualcosa e si voltò. Il fumo l'aveva istupidito. Non c'era un momento da perdere, il fuoco aveva attaccato anche le coperte. Corsi al catino e alla brocca. Fortunatamente tutti e due di grandi dimensioni e pieni di acqua. Li vuotai sul letto e sul suo occupante. Corsi a prendere l'acqua che era in camera mia e rovesciai anche quella sull'incendio. E grazie a Dio riuscì a spegnerlo. Lo sfrigolio dell'acqua gettata sul fuoco, il rumore della brocca che era caduta a pezzi in terra dopo che l'avevo adoperata e soprattutto la doccia d'acqua fredda svegliarono finalmente il signor Rochester. Benché fosse buio, capì. che era tornato in sé, perché lo udì lanciare strane imprecazioni trovandosi in un lago d'acqua. C'è un'inondazione? gridò. No, signore, risposi. Ma c'è stato un incendio. Si alzi, ora non è più in pericolo. Vado a prendere una candela. Per tutti gli spiriti della terra. E lei, Genei? E gli chiese. Che cosa mi ha fatto, maga, incantatrice? C'è qualcun altro nella camera? Avete deciso di farmi affogare? Vado a prendere una candela, signore. E in nome del cielo, si alzi. Qualcuno le ha fatto qualcosa. Ancora è troppo presto per scoprire che è stato e come è stato. Via. Ora mi alzo. A suo rischio e pericolo vada pure a prendere una candela. Aspetti due minuti finché abbia trovato qualche indumento asciutto, se ancora ve n'è. Sì, ecco la mia vestaglia. Ora corra. Corsi fuori e portai la candela che bruciava ancora nella galleria. La prese dalle mie mani. La sollevò per ispezionare il letto tutto nero e bruciacchiato, le tende bagnate, il tappeto fradicio di acqua. Che cos'è? Chi è stato? Domandò. Brevemente gli raccontai quel che sapevo. Il riso strano che avevo udito nella galleria. I passi che salivano al terzo piano. Il fumo e l'odore dell'incendio che mi avevano condotto nella sua camera. E in quale stato avevo trovato lì le cose? E come l'avevo innaffiato con tutta l'acqua a mia disposizione? Ascoltò molto serio. Il suo viso dimostrava più interesse che stupore e rimase un momento in silenzio dopo che ebbe finito. Vado a chiamare la signora Fairfax? Domandai. La signora Fairfax? No, perché diavolo la vuol chiamare? Che cosa può fare? La lasci dormire tranquilla. Allora andrò a cercare Lea e a svegliare John e sua moglie? Assolutamente no. Resti tranquilla. Ha uno scialle. Se non ha abbastanza caldo prenda il mio mantello e se lo metta addosso. E segga sulla poltrona. Ecco qua. Ora mette i piedi sullo sgabello per non tenerli all'umido. Devo lasciarla per alcuni minuti. Prenderò la candela. Rimanga dov'è fino al mio ritorno. Ferma come una statua. Farò una visita al terzo piano. Non si muova, mi raccomando, e non chiami nessuno. Uscì e io vidi la luce allontanarsi. Fece la galleria a passi felpati. Aprì la porta della scala col minor rumore possibile e la richiuse. E l'ultimo barlume svanì. Passò un lungo tempo. Cominciai a sentirmi stanca. Sentivo freddo nonostante il mantello. E poi non vedevo la necessità di rimanere dal momento che non dovevo svegliare la casa. Ero sul punto di procurare un dispiacere al signor Rochester col disobbedirli, allorché rividi la luce brillare tenuamente sul muro della galleria. E udì i suoi piedi nudi sulla stuoia. Spero che sia lui, pensai. E nulla di peggio. Egli rientrò pallido e aggrondato. Ho scoperto tutto, disse appoggiando la candela sul lavabo. E come pensavo. Come, signore? Non rispose, ma rimase in piedi a braccia concerte, con gli occhi fissi a terra. Trascorsi alcuni minuti chiese con voce alquanto strana. Ho dimenticato se ha detto che ha visto qualcosa quando aprì la porta della camera. No, soltanto la candela per terra. Ma udì una risata singolare. Aveva già sentito, immagino, quella risata o qualcosa di simile. Sì, signore. Vi è una donna che cuce qui di nome Grace Poole che ride in quel modo. È una persona bizzarra. Esattamente. Grace Poole ha indovinato. È, come lei dice, bizzarra, proprio. Bene, provvederò. Frattanto, mi rallegro che lei sia l'unica persona oltre me a conoscenza degli avvenimenti di questa notte. Lei non è una sciocca e quindi non ne parli. Pensero io ad aggiustare le cose, indicando il letto. E ora ritorni in camera sua. Io dormirò benone sul divano della biblioteca per il resto della notte. Sono quasi le quattro e fra due ore la servitù si alzerà. Buonanotte allora, dissi incamminandomi. Egli parve sorpreso, molto incongruentemente, perché mi aveva appena detto di andare. Come? esclamò. Mi lascia già in questo modo. Mi ha detto lei che posso andare, signore. Ma non senza prender congedo. Non senza qualche buona parola d'intesa. Non in breve così freddamente. Come mi ha salvata la vita. Mi ha strappato a una morte terribile e crudele. E se ne va come se fossimo degli estranei l'uno all'altro. Mi dia almeno la mano. Gli diedi la mano. La tenne stretta prima in una, poi in tutte e due le mani. Mi ha salvato la vita. Ho piacere di aver contratto con lei un debito immenso. Non posso dire di più. Soltanto che non potrei sopportare tale obbligo con un altro, ma con lei è un'altra cosa. Non sento il suo beneficio come un peso, Jane. Si arrestò e mi guardò intensamente. Gli tremavano delle parole sulle labbra, ma non poté pronunciarle. Buonanotte, signore. In questo caso non c'è nessun debito, beneficio, peso o d'obbligo. Sapevo, continuò, che mi avrebbe fatto del bene un giorno. Lo lessi nei suoi occhi la prima volta che l'incontrai. La loro espressione e il loro sorriso non fecero sussultare. Di nuovo si fermò. Non fecero sussultare, continuò rapidamente. Di gioia l'intimo del mio cuore, così per nulla. La gente parla di sippatie spontanee. Si sente dire di geni buoni. Vi sono granelli di verità nelle storie più strampalate. Buonanotte, mia cara protettrice. Aveva una strana energia nella voce e uno strano fuoco nello sguardo. Sono contenta di essere stata sveglia, dissi, e mi mossi per andare. Che vuole andare? Ho freddo, signore. Freddo? Già, sta in piedi in un lago. Vada allora, Jane. Vada. Ma mi serrava ancora la mano e non potevo liberarla. Ricorsi a un espediente. Mi sembra di aver sentito muoversi la signora Fairfax, dissi. Bene, mi lasci. Sciolse le dita e io andai. Ritornai nel mio letto, ma non avevo sonno. Fino all'alba mi parve di galleggiare su mare in bonaccia, ma turbolento, ove ondate di affanno si rovesciavano su flutti di gioia. E mi sembrava a volte di scorgere oltre le acque in tempesta una spiaggia dolce come le alture di Biula. E che una gagliarda brezza spingesse il mio spirito al sicuro verso la meta. Ma che non potessi raggiungerla, perché un vento contrario, soffiando dalla terra, mi respingeva continuamente indietro. La ragione si opponeva alla pazzia. Il giudizio debellava la passione. Troppo eccitata per dormire. Mi alzai non appena spuntò il giorno. Capitolo sedicesimo. Desideravo e temevo un tempo di rivedere il signor Rochester il giorno che seguì quella notte insonne. Avevo desiderio di riudire la sua voce, ma temevo di incontrare i suoi occhi. Durante la mattinata aspettai di momento in momento il suo arrivo. Non era frequente che entrasse nello studio, ma qualche volta egli vi si fermava per pochi minuti e quel giorno avevo l'impressione che sicuramente sarebbe venuto. Ma quella mattina passò come il solito. Nulla venne a interrompere i tranquilli studi di Adele. Solamente dopo la colazione sentì del trambusto dalla parte della camera del signor Rochester, la voce della signora Fairfax di Lea e della cuoca, cioè la moglie di John e perfino quella cupa di John. Sentì delle frasi come... È stato un miracolo che il signore non sia bruciato vivo nel letto. È sempre pericoloso tenere una candela accesa di notte. Che fortuna che abbia avuto la presenza di spirito di pensare alla brocca dell'acqua. Strano che non abbia svegliato nessuno. Speriamo che non si sia preso un raffreddore a dormire sul divano della biblioteca, eccetera. A questa conversazione seguì un rumore di sfregamenti e di sistemazione. E quando passai dinanzi alla camera per scendere a pranzo, vidi attraverso la porta aperta che tutto era stato rimesso all'ordine. Mancavano solo le tende al letto. Lea stava in piedi sull'orlo della finestra a strofinare i vetri opaccati dal fumo. Ero sul punto di parlare perché desideravo sapere come era stato spiegato l'incidente quando, avanzando, scorsi un'altra persona nella camera. Una donna che sedeva sulla sedia accanto al letto e che cuciva gli anelli alle tende nuove. Questa donna non era altri che Grace Poole. Stava la grave taciturna come il solito, vestita del suo abito scuro, il grembiule a scacchi e il fazzoletto bianco. Pareva tutta assorta nel suo lavoro. Sulla sua fronte dura e nelle sue fattezze volgari non traspariva né il pallore né la disperazione che ci si sarebbe aspettati sulla fisionomia di una donna che ha tentato di commettere un omicidio e la cui vittima la notte prima l'aveva seguita fino alla sua tana e, come credevo, l'aveva accusata del delitto perpetrato. Ero stupita, confusa. Essa alzò gli occhi mentre ancora la fissavo. Non la vidi né trasalire né arrossire né impallidire, nulla che tradisse l'emozione o la coscienza della colpevolezza o la paura della scoperta. Disse, buongiorno signorina, nel solito modo flemmatico e secco. Poi, riprendendo un anello e del filo, continuò a cucire. La metterò alla prova, pensai. Questa assoluta impassibilità è inspiegabile. Buongiorno Grace, dissi. Che cosa è accaduto in questa camera? Mi è parso di sentire i domestici parlare tutti insieme poco fa. Il padrone leggeva a letto la notte scorsa, si è addormentato con la candela accesa e le tende a un preso fuoco, ma fortunatamente si è svegliato prima che il fumo si appiccicasse alle coperte o al legno ed è riuscito a spegnere le fiamme con l'acqua della brocca. Che cosa curiosa, dissi a voce bassa e senza distogliere lo sguardo da lei? Il signor Rochester non ha svegliato nessuno? Nessuno l'ha sentito muoversi? Sollevò gli occhi su di me e questa volta c'era della consapevolezza nella sua espressione. Sembrava che mi esaminasse cautamente. Poi rispose. Lei sa, signorina, che la servitù dorme così lontana, che non è probabile l'abbia udito. La camera della signora Fairfax e la sua sono le più vicine a quella del padrone. Ma la signora Fairfax dice di non aver sentito nulla. Le persone vecchie spesso hanno il sonno pesante. Si fermò un istante e poi aggiunse con una specie di voluta indifferenza ma con un tono marcato e significativo. Ma lei è giovane, signorina, e direi che al sonno leggero e forse ha udito rumore. Sì, dissi io abbassando la voce, di modo che Lea, che stava ancora pulendo i vetri, non mi sentisse. E dapprima pensai che fosse Pilot, ma Pilot non ride e son sicura di aver sentito un riso, un riso strano. Essa prese una nuova gugliata di filo, l'incerò attentamente, l'infilò nel lago con mano ferma e poi disse con calma perfetta. È poco verosimile. Credo, signorina, che il padrone, trovandosi in tal pericolo, abbia riso. Lei deve aver sognato. Non ho sognato, dissi con calore poiché la sua freddezza sfrontata mi provocava. Essa mi guardò di nuovo con lo stesso occhio conscio e scrutatore. Ha detto al padrone che ha sentito ridere? Domandò. Non ho avuto l'occasione di parlargli questa mattina. Non ha pensato ad aprire la porta e a guardare nella galleria? Continuò. Sembrava che mi sottoponesse un interrogatorio per tirarmi fuori delle notizie senza che me ne accorgessi. Mi balenò l'idea che se avesse scoperto che sapevo o sospettavo la sua colpevolezza, mi avrebbe giocato uno dei suoi tiri maligni. Pensai che era prudente stare in guardia. Al contrario, dissi, sprangai la porta. Non ha allora l'abitudine di sprangare tutte le sere la porta prima di andare a letto. Demonio! Essa vuol conoscere le mie abitudini per preparare i suoi piani in conseguenza. L'indignazione prevalse ancora sulla prudenza. Risposi pungentemente. Finora ho trascurato spesso di tirare il paletto. Non lo credetti necessario. Non mi ero resa conto che ci fosse a Thornfield Hall da temere qualche pericolo o disturbo. Ma in futuro, e calcai sulle parole, starò bene attenta di essere al sicuro prima di coricarmi. Farà bene, fu la risposta. Mi risulta che i dintorni sono quieti e da quando la casa è stata costruita non ho mai sentito che sia stata derubata, benché sia noto che contenga centinaia di libre di argenteria. E per una casa così grande vi è pochissima servitù, perché il padrone non c'è mai vissuto molto e quando ci viene, non avendo famiglia, ha pochi bisogni. Ma penso che è sempre meglio premunirsi. Una porta è presto chiusa ed è meglio avere un paletto tirato fra sé e un pericolo. C'è una quantità di persone che si affidano completamente alla provvidenza. Ma la provvidenza non dispensa gli uomini dall'usare dei mezzi, che anzi spesso il Signore benedice, se sono usati con discernimento. E qui terminò il discorso. Lungo, per le sue abitudini, è pronunciato con l'apposatezza di una quacchera. Ero ancora assolutamente stordita dallo straordinario dominio di sé e dall'ipocrisia impenetrabile che aveva mostrato, allorché entrò la cuoca. Signora Poole, disse rivolgendosi a Grace, il pranzo per la servitù è quasi pronto. Vuole scendere? No, metta una pinta di birra e un pezzo di focaccia su un vassoio e lo porterò io di sopra. Vuole un po' di carne? Ma appena un boccone e un pezzetto di formaggio, nient'altro. E il sago. Non importa per ora, scenderò io prima dell'ora del tè. Lo farò da me. La cuoca allora si voltò verso di me e mi disse che la signora Fairfax mi stava aspettando. Così me ne andai. Mi costò uno sforzo ascoltare la signora Fairfax mentre raccontava dell'incendio delle tende durante il pranzo. Tanto stavo ostillandomi il cervello sul carattere enigmatico di Grace Poole e meditando sul problema della sua posizione a Thornfield. Mi chiedevo perché non era stata mandata in prigione quella mattina, o almeno licenziata dal padrone. Egli aveva dichiarato la sua convinzione della colpevolezza di lei. Quale ragione misteriosa lo tratteneva dall'accusarla. Perché aveva coinvolto anche me nel segreto. Era strano che quell'uomo audace, vendicativo e orgoglioso fosse in potere di una sua umilissima dipendente, a tal punto che, avendo essa tentato la sua vita, non osasse accusarla apertamente e tanto meno punirla. Se Grace Poole fosse stata giovane e bella, mi sarei arrischiata a credere che influissero sul signor Rochester dei sentimenti più teneri della prudenza e della paura, ma, sgraziata e grossa com'era, l'idea mi parve assurda. Eppure, mi dicevo, è stata giovane al tempo che fu giovane anche il padrone. La signora Fairfax mi disse una volta che vive qui da molti anni. Credo che non sia mai stata bella, ma possiede certamente originalità e forza di carattere per compensare la penuria delle doti fisiche. Il signor Rochester ama la fermezza e la stravaganza, e Grace è indubbiamente stravagante. Può darsi che un vecchio capriccio, molto comprensibile in una natura tanto impulsiva e violenta, l'abbia posto nelle sue mani e che essa ora eserciti una segreta influenza sulle sue azioni, da cui non può né osa liberarsi. Ma giunta a questo punto mi si delineò così nettamente la sua figura quadrata e piatta e il suo viso duro e perfino volgare, che pensai? No, è impossibile, la mia supposizione non regge. Eppure, insinuava la voce segreta che ci parla in fondo al cuore, neppure tu sei bella, e forse al signor Rochester piaci, o almeno hai spesso questa impressione, e ricorda le sue parole, il suo sguardo, la sua voce della notte scorsa. Ricordavo tutto, parole, sguardo e il timbro della voce come se ancora mi parlasse. In quel momento mi trovavo nello studio. Adel disegnava. Io, curva su di lei, le guidavo la matita. Essa alzò gli occhi all'improvviso. «Qu'avez vu, mademoiselle?» disse. «Vos doigts tremblent come la fuille, e vos yeux sont rouges, mais rouges come des cerises.» Sento caldo, Adel, a star curva. Lei continuò a disegnare. Io a pensare. Scacciai dalla mente l'opinione odiosa formata su Grace Poole. Mi ripugnava. Ponendomi a suo confronto, trovavo che eravamo diverse. Bessie Leaven aveva detto che avevo l'aria di una signora, e aveva ragione. Ero una signora. E ora ero ancor meglio di quando mi aveva visto Bessie. Ero più colorita e più grassa, più vitale e più vivace, perché avevo speranze più luminose e gioie più intense. «Viene sera», mi dissi, guardando verso la finestra. «Non ho sentito oggi né la voce né il passo del signor Rochester, ma certamente lo vedrò prima di notte. Questa mattina temevo di incontrarlo. Ora lo desidero, e mi sento impaziente perché sono stata delusa nell'aspettativa». Quando venne buio e Adele mi lasciò per andare a giocare nella stanza dei bambini con Sophie, ne sentì ancora più vivo il desiderio. Stetti in ascolto per sentire se mi chiamasse un campanello da basso, se Lea salisse con un messaggio del signor Rochester. Mi pareva ogni tanto di sentire il suo passo e mi giravo verso la porta, aspettandomi di vederlo entrare. Ma la porta rimaneva chiusa, e solo la notte giungeva per la finestra. Non era troppo tardi. Spesso mi mandava a chiamare fra le sette e le otto, e non erano ancora le sei. Certamente non sarei rimasta delusa quella sera che avevo tante cose da dirgli. Desideravo riportare il discorso su Grace Pool e sentire quel che mi avrebbe risposto. Desideravo chiedergli apertamente se in realtà credeva che fosse stata lei, la notte prima, a fare quel vile attentato, e, se ne era convinto, perché lo teneva segreto. Poco mi importava se la mia curiosità l'avrebbe irritato. Conoscevo l'arte di tormentarlo e di calmarlo alternativamente. Era una delle mie prerogative, e un istinto sicuro mi impediva di andare troppo lontano e oltrepassare i limiti. Giunta al punto estremo, ricorrevo alla mia abilità. Pur non venendo mai meno al rispetto né agli obblighi della mia situazione, potevo trattare con lui qualsiasi argomento senza timore o ritegno, e questo metteva al nostro agio ambedue. Si sentì finalmente un passo sulle scale. Apparve Lea, ma solamente per annunciarmi che era pronto il tè in camera della signora Fairfax. Fui contenta di andare almeno da basso, perché in questo modo ero, pensai, più vicina al signor Rochester. Deve aver voglia di tè, disse la buona signora. Ha mangiato così poco a pranzo. Temo che non stia bene, all'aria di averla febbre. Oh, sto benissimo, non mi son mai sentita così bene. Allora deve dimostrarlo, mangiando con appetito. Vuol riempire la teiera intanto che finisco il ferro? Poi si alzò e chiuse le imposte, che aveva tenute aperte fino all'ora per godere fin l'ultimo bagliore di luce, ma ormai l'oscurità era completa. È un bel tempo questa sera, disse guardando attraverso i vetri. Anche se non ci sono le stelle, il signor Rochester ha avuto una giornata buona per il suo viaggio. Viaggio? È andato in qualche posto? Non sapevo che fosse partito. Oh, è partito subito dopo la colazione. È andato a Lees, dal signor Ashton, a 15 chilometri di qui, dall'altra parte di Milcott. Credo che vi sia una festa e vi sia riunita una compagnia. Lord Ingram, Sir George Lynn, il colonnello Dent e altri. L'aspetta di ritorno questa sera? No, e neppure domani. Molto probabilmente rimarrà una settimana e più. Quando queste persone eleganti e di mondo si trovano insieme, si circondano di tali raffinatezze e allegria e di tutto quello che può procurar piacere, che non hanno nessuna fretta di separarsi. Specialmente i signori vanno in cerca di queste occasioni. Il signor Rochester è così estroso e vivace in società che credo sia ben accetto a tutti. Le signore ne sono innamorate. Eppure non si direbbe che il suo aspetto debba trovare particolare favore ai loro occhi, ma penso che le sue nozioni e il suo ingegno, e forse la ricchezza e la nobiltà di famiglia fanno ammenda a qualche suo difettuccio. Vi sono delle signore, Alice? Vi sono la signora Ashton e le sue tre figliuole, delle signorine elegantissime. E immagino che vi siano Blanche e Mary Ingram, delle donne molto belle. Vidi Blanche sei o sette anni fa, quando era una ragazza di diciott'anni. Venne qui per una festa che diede il signor Rochester. Se avesse visto la sala da pranzo quel giorno, com'era stupendamente decorata e illuminata. Vi erano forse presenti una cinquantina di persone, fra dame e cavalieri, tutte delle migliori famiglie della contea. La signorina Ingram fu giudicata la più bella della serata. La vide, signora Fairfax? E com'è? La vidi sì, le porte della sala da pranzo erano spalancate e alla servitù, come per il Natale, fu permesso di riunirsi nel vestibolo per sentire le signore cantare e suonare. Il signor Rochester volle che entrassi e che stessi sedute in un angolino a guardare. Non vidi mai spettacolo più splendido. Le signore avevano abiti magnifici. La maggior parte, almeno la maggior parte delle più giovani, erano belle. Ma la signorina Ingram era certamente la reginetta. E com'è? Una figura alta e sottile, le spalle cascanti, un collo lungo e aggraziato, la carnagione di un bel bruno, dei lineamenti aristocratici, gli occhi simili a quelli del signor Rochester, grandi e scuri e lucenti come gemme. E poi aveva una così graziosa capigliatura a nero corvino e pettinata così bene dietro, una corona di grosse trecce e davanti i più splendidi riccioli che abbia mai visto. Aveva un abito bianco come la neve, con una sciarpa color ambra che le copriva le spalle e il petto e le si annodava di fianco e le scendeva fin sotto il ginocchio in lunghe frange. Portava sui capelli un fiore, anche quello color ambra, in pieno contrasto con la massa dei suoi riccioli bruni. Fu molto ammirata, naturalmente. Sì, certo, e non soltanto per la sua bellezza, ma anche per la sua bravura. Fu una delle dame che cantarono. Un signore suonò il piano e lei e il signor Rochester cantarono un duetto. Il signor Rochester? Non sapevo che sapesse cantare. Oh, ha una bella voce di basso e moltissimo orecchio. E la signorina Ingram che tipo di voce ha? Una voce molto piena e potente, canta meraviglia e un vero piacere ascoltarla. E poi suonò. Io non so giudicare di musica, ma il signor Rochester sì, e l'ho sentito dire che suona ottimamente. E questa signorina così bella e perfetta ancora non si è sposata? Pare di no. Credo che lei e sua sorella non abbiano una grande dote. I possedimenti del vecchio Lord Ingram erano inalienabili e sono toccati quasi tutti al figlio maggiore. Mi meraviglio che nessun ricco nobile signore si sia innamorato di lei. Per esempio il signor Rochester. Egli è ricco, nè vero? Oh sì, ma fra di loro vi è una considerevole differenza d'età. Il signor Rochester ha quasi 40 anni, lei solo 25. Che importa, tutti i giorni si vedono matrimoni con un divario d'anni anche maggiore. È vero, pure non credo che il signor Rochester entrerebbe in tal genere di idea. Ma lei non mangia nulla, non ha neppure assaggiato un boccone da quando siamo a tavola. No, ho troppa sete per mangiare. Mi vuol dare un'altra tazza di te. Stavo di nuovo tornando sulla possibilità di un matrimonio fra il signor Rochester e la bella Blanche, ma entrò ad elle e la conversazione prese un'altra piega. Quando finalmente rimasi sola, ripensai alle informazioni che avevo raccolte. Esaminai i pensieri e sentimenti che albergavano in fondo al mio cuore, sforzandomi di riportare fermamente al sicuro porto della ragione la mia immaginazione, vagabonda e sfrenata. Richiamai alla memoria speranze, desideri, sentimenti che avevo nutrito durante l'ultima notte e il generale stato di spirito a cui mi era abbandonata negli ultimi giorni. intervenuta la semplice e cruda ragione a mostrarmi che avevo respinto la realtà e mi ero gettata corpo morto nell'ideale, così conclusi che mai era vissuta sulla terra persona più pazza di Jane Eyre, né che persona più sciocca si era nutrita di dolci menzogne, frangugiando veleno come se fosse nettare. Tu, dicevo, favorita del signor Rochester, tu credi di averle doti per piacergli? Tu ti illudi di essere qualcosa per lui? Va, la tua follia mi sconvolge, e hai sentito piacere per certi riguardi, riguardi equivoci di un signore nobile di mondo a una sua dipendente. Come osasti pensare? povera sciocca! Tu ti ripeti da questa mattina la scena di questa notte. Nascondi la faccia e vergognati. Ti fece dei complimenti a proposito dei tuoi occhi, no? Povera cieca, spalanca le palpebre ci spose per mirare la tua detestabile stupidità. Non va bene per una donna essere adulata dal suo superiore che probabilmente non ha intenzione di sposarla. In tutte le donne c'è la pazzia di covare un amore segreto che, se non corrisposto e ignorato, distrugge la vita che lo alimenta. Se scoperto e corrisposto, conduce come un ignis fatus in paludi selvagge senza salvezza. Da ascolto, Genair, domani mettiti dinanzi allo specchio e fatti un ritratto fedele senza smorzare le irregolarità sgradevoli e scrivi sotto, ritratto di una governante povera e semplice. Poi prenderai un pezzo di avorio, ne hai pronto uno nella tua scatola da disegno. Prendi la tavolozza, mescola i colori più freschi e brillanti, scegli il pennello più sottile, traccia con cura il viso più delizioso che puoi immaginare. Secondo la descrizione che la signora Fairfax ha fatto di Blanche Ingram, dipingilo con le ombreggiature più tenui e le tinte più delicate. Non dimenticare i riccioli corvini e gli occhi orientali. Che cosa? Prendi il signor Rochester per modello? Niente pianistei, niente sentimentalismi, niente rimpianti. Prendi in aiuto solo buonsenso e fermezza. Tieni presenti lineamenti nobili eppure armoniosi, il collo e il busto greco, e che si veda il braccio rotondo e splendido, la mano affilata, e non dimenticare l'anello di diamanti e il braccialetto d'oro, le trine aeree, il raso lucente e la sciarpa e la rosa dorata. E a questo ritratto dà il nome di Blanche, una dama di qualità. Se in avvenire crederai per caso che il signor Rochester pensi bene di te, prendi questi due dipinti, mettili a paragone e di a te stessa. Se il signor Rochester vuole, può benissimo guadagnarsi l'amore di questa nobile signorina. È verosimile che pensi seriamente a questa plebea povera e insignificante? Decisi di eseguire i ritratti e una volta appresa la risoluzione, mi sentii più calma e mi addormentai. Tenni la parola. In un paio d'ore schizzai l'autoritratto a matita e in meno di quindici giorni finì una miniatura a suo avorio di una immaginaria Blanche Ingram. Risultò un bel viso e quando lo paragonai col disegno, il contrasto fu quello desiderato. Quel lavoro mi fece bene. Aveva tenuto occupate la mia testa e le mie mani e avevo fissato e rafforzato idee nuove che desideravo imprimere indelebilmente nel mio cuore. Poco dopo potei congratularmi con me stessa per la disciplina a cui avevo assoggettato i miei sentimenti. Dovetti ad essa se negli avvenimenti che seguirono fu in grado di comportarmi con abbastanza calma. Calma che, se non mi avessero trovata preparata, non sarei riuscita a mantenere neppure esternamente.